qui dopo aver illustrato l'impianto audio che sta suonando abbiamo anche portato delle cuffie che sono le stax diffuso e cuffie elettrostatiche dalla più piccolina che è la 300 fino ad arrivare alla 009s in questa configurazione come la vedete qui quindi in ascolto sempre tutte le cuffie le trovate anche in negozio quindi ci potete venire a trovare con più calma il negozio a via valpellice 85 centro musicale tantissime persone tantissime persone interessate sia all'impianto che a quello che riguarda le cuffie che abbiamo portato oggi in fiera prossimi appuntamenti per noi l'anno prossimo come fiera ai fedeli di assolutamente sì altrimenti faremo comunque delle demo in negozio sia con vtl e tad che con cuffie stax e altri prodotti tanti altri prodotti che abbiamo in negozio